e va passando tutti vai, da questa parte speciale e vai così, giù, copia e vai così, tutti, a sì, a sì, a sì ho dovuto una mano nella cabeza, vai una mano nella cabeza un movimento sexy, no, un movimento sexy una mano nella sicura una mano nella sicura un movimento, pure di nuovo e giù e adesso più senti, piano piano e si sale, si sale, si sale, si sale vai in arriva vai in arriva si senti, si senti in arriva vai in arriva vai in arriva vai in arriva Grazie a tutti.